Buongiorno, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia per la gara del campionato seconda fase della Coppa Provincia, categoria giovanissimi, c'è mister Gabriele Di Felice, oggi alle 16.30 c'è la gara Virtus Castelfrentano con la divisa bianca, tutta bianca con risvolti giallorosse e il cupello calcio con la divisa tutta rossa, da questo lato si vede il cupello calcio, là in punto ci sono i nostri ragazzi, alle 16.30 inizia la gara, il direttore di gara è il signor Di Tonto della sezione AIA di Lanciano.